16 marzo 1920. Nasce a Sant'Arcangelo di Romagna Tonino Guerra, scrittore e poeta, pubblica la sua prima raccolta di poesie, Iscara Boc, nel 1946 e nel 1952 il primo romanzo, La storia di Fortunato. Nel 1953 si trasferisce a Roma e inizia a lavorare come sceneggiatore con i grandi registi del cinema italiano, collaborando a film come Matrimonio all'italiana, Amarcord, Blow Up, Chaos e Ginger e Fred. Guerra muore a Sant'Arcangelo di Romagna il 21 marzo 2012. Questa notte ho fatto un sogno, secondo me straordinario perché vedevo tutti i disegni, gli schizzi, gli appunti di Fellini quando lui cercava i personaggi dei film che salivano su Rex per andare in viaggio verso l'isola incantata. Grazie a tutti. Nell'isola incantata tutti i nostri personaggi passeggiano o si bagnano nell'acqua limpidissima, mentre sulla nave Federico sta cercando il capitano che trova nella stiva dove dorme il vecchio rinoceronte. Fellini gli ordina di ripartire e gli altri domanda sorpreso il capitano. Gli altri restano risponde deciso Federico e proprio in quel momento arriva anche giù nelle stive il motivo di una tromba suonata nella parte alta della nave. Ma chi suona con la tromba?